della parte emergenziale del Dipartimento di Protezione Civile, quindi conosco ANPAS, so che le attività di ANPAS fino ad oggi sono state portate insieme nell'intesa del Dipartimento e noi continueremo su questa scia operata insieme, quindi io vi voglio solamente ringraziare dell'attività che fate, assicurare che ancora ci aspetta un percorso importante, un percorso sul quale noi dovremo condividere anche le linee, ringrazio anche il Presidente per l'audizione che ha fatto in commissione per la legge delega in materia di protezione civile, è un percorso importante e strutturato sul quale dovremo ancora ragionare insieme, quindi abbiamo fatto tanta strada insieme, ne abbiamo ancora tanta da fare e io credo che ci sono tutti i presupposti per un lavoro d'intesa e ovviamente che ha come obiettivo quello della risposta al cittadino in tutte le sue fasi, quindi grazie, buon lavoro e noi ci siamo.